Niente automobili, niente rumore, niente stress. Nella natura ritroviamo la nostra natura. Noi a Vigilius facciamo molta attenzione a quello che acquistiamo e a quello che viene poi elaborato nella cucina, quindi i prodotti sono accuratamente selezionati. A proposito di materie prime, so che avete riservato un premio ai vostri fornitori. I nostri fornitori sono coinvolti nel concetto Vigilius, nella nostra filosofia e quindi proprio per questo abbiamo promosso un'iniziativa che è il partner dell'anno, il fornitore dell'anno e regaliamo ogni anno al partner che viene selezionato un soggiorno presso di noi. Con noi Filippo Zoncato, chef del Vigilius, orgoglioso di aver ricevuto un premio che mette al centro proprio la materia prima. Allora, il premio che ha vinto, Godi 2018, è il giardinetto di Harald Gassel con una spuma di rapa rossa e testina al fieno. Prendiamo le verdure di Harald della stagione, componiamo il piatto con queste verdure, fiori e erbe, una spuma di rapa rossa al sifone e la testina regenerata con un brodo di fieno. Grazie. 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 Grazie.